Il report sulle regioni cosiddette in ritardo di sviluppo contiene diverse indicazioni positive, ma anche delle criticità. Positiva è la messa in evidenza della necessità di un approccio realmente solidale in ambito della sfida migratoria, in mancanza della quale il contributo di fondi di coesione, che già di loro non dovrebbero essere destinati all'immigrazione, non sarà efficace. Positivo sottolineare gli effetti estremamente negativi della crisi economica e dei relativi tagli imposti dal patto di stabilità, così come la proposta di valutare l'impatto che l'esclusione del confinanziamento nazionale e regionale dei fondi strutturali dal calcolo del deficit avrebbe sugli investimenti pubblici. Non possiamo però essere d'accordo con un'impostazione troppo timida e diversa dalla bozza iniziale sulle riforme strutturali. Non è possibile asserire che le riforme possono aiutare gli Stati membri e le regioni a raggiungere migliori risultati se la Commissione prima non chiarisce lo scopo e la loro definizione. A causa dell'opposizione della maggioranza di altri gruppi non vi è alcuna menzione sul pericolo della proposta della Commissione di usare la riserva di performance, 21 miliardi, per destinare queste risorse a privatizzazioni o interventi di precarizzazione del mercato del lavoro. Grazie.